Pronti, uno, due, tre. Valida la prima partenza con Veloce Divina Bride mentre sbaglia Dakota De Long. A venti metri è partito bene Domingo Barra in anticipo su Dioniso mentre punta in avanti e passa a condurre Divario. E così Divario è in vantaggio dopo cento metri di corsa in seconda posizione Divina Bride. In terza c'è Dea Alter a precedere Desdemona Font. Quindi gli altri con la retroguardia sempre Dioniso preceduto da Domingo Barra e da Darko Gual. Divario che si distende al comando dopo quattrocento metri passati in trenta spaccato. Divario e Natale Cintura che proseguono da battistrada sulla curva di destra mentre prova a spostare all'esterno dalle retrovie Domingo Barra. I 600 del leader se ne vanno in 45 e 1. Divario che è in vantaggio e guadagna un paio di lunghezze a Divina Bride. In terza posizione Dea Alter, poi ancora Desdemona Font mentre progredisce gradualmente Domingo Barra. Anche perché davanti c'è 59 e 9 per i primi 800 metri di corsa. Non lesina l'andatura il battistrada che è bello agganciato alle guide di Natale Cintura in quale cerca di graduarlo e anche di tenerlo di trotto perché non è perfetto al chilometro in 1.13.6. Sbaglia ora Divario. Divina Bride rimane al comando nei confronti di Dea Alter mentre Domingo Barra, anche lui non sicurissimo nell'andatura, va in anticipo costante su Dioniso. C'è 15 e 3 davanti alle tribune, 1 e 29 i primi 1.200. Fa fatica a levarsi di Vario che crea impiccio a tutti quelli dietro. Divina Bride resta in vantaggio nei confronti di Dea Alter, poi ancora Domingo Barra che torna con maggior decisione. 15 e 3 per la curva di destra, ora Domingo Barra ha trovato la pedalata più proficua e va a portarsi a lato di Divina Bride la quale difende la posizione di testa, Dioniso in seconda pariglia esterna, Dea Alter seconda allo steccato. Questi 4 al miglio in 1.59.3 con Domingo Barra che passa nei confronti di Divina Bride, Dioniso che prova a intervenire ha ancora però un paio di lunghezze da ricucire dal battistrada che passa alla piegata conclusiva in 14.5 dentro in retta d'arrivo in chiaro vantaggio Domingo Barra in fuga da Dioniso che prova ad andarlo a prendere Domingo che deve finire il percorso, Dioniso che prova a rimoltare insieme a Dea Alter ma Domingo Barra porta a casa la vittoria pur rallentando nel finale al secondo posto Dea Alter che trova tardi da correre avanti a Dioniso. 2.29 spaccato sul mio cronometro presi sulla testa e quindi era guaglio cronometrico interessante sotto l'1.14 per Domingo Barra, Alessandro Gocciadoro che allena e guida il portacolori di Gianluca Morghese che sul palo mantiene una lunghezza e mezza nei confronti di Dea Alter che finisce al secondo al terzo posto Dioniso, il figlio di Varen e Thailest colpisce duro alla prima per Alessandro Gocciadoro e su questo bellissimo slow motion frontale ritorniamo da Michol Fensi. Grazie a tutti.